questo è a 72 battiti per minuto tutta da da una sola volta te lo faccio a tempo con il metrano 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 un cuore un cuore un cuore un cuore Quando esegui questo pezzo, come hai fatto a lezione, fai attenzione sulla prima parte, a non dimenticarti i bassi che qualche volta salti, ad esempio, o li metto anche di più. Ma no, quando fai i passaggi sul Fa, il Fa va tenuto col pollice e questo pezzo che avevi aggiunto un paio di note, il resto più o meno ci sei, blocca.